Oggi dopo anni proverò nuovamente a mangiare il triplo di Graziana, però questa volta Graziana ha detto Mangia in modalità estreme, con cose assurde, e io ho detto ma che problema c'è, ma che ci vuole Come tu non mangerai una cosa, catterò una bella penitenza Ma non ci saranno problemi perché mangerò tutto Ma che bugiardo, non riuscirò a mangiare, dice sempre così e poi Se questo video arriverà a 15.000 like, uno dei prossimi video sarà Graziana vestita da alieno completamente Farà tutto il video così, lo compra e Graziana lo indosserà Ma che cosa vuoi, ma scusate Se arriva a 15.000 like Lascia uno gemi a controllare, perché tutti i miei È una mia richiesta, è una mia richiesta No, io ti compro uno vestito da cacca gigante Grazie Ecco la prima cosa Porca miseria Io voglio quello con la Nutella Perché io voglio quello marmellata e burro Voglio proprio vederti tu come devi bere tre cappuccini Sì, però così stai giocando in modo scorretto Eh, ho detto, questa è la versione estrema Sì, ma la versione estrema è una domanda dal bagno tutto il giorno Non ha senso questa cosa, perché io starò male Invece starai benissimo Vabbè ragazzi, ma oggi non ci credo di Graziana Perché il protagonista vero sono io Grazie Sì, mettili qua, non ti preoccupare C'è stato un errore, lo tenebbi tu, eh Assolutamente no, questo è tuo Guarda Ma lo sai che tu dopo questo non vorrei più niente? Visto che sei stata fatta Perché il latte mi farà male Faremo una pausa dopo queste tre cose Perché sennò io lo darò a casa Per forza, assolutamente Vabbè, il cappuccino è standard Io lo bevo sempre a colazione Ma si prende senza Che ci vuole? Sappiamo che ho bevuto un sosso Io non ce la devo andare Un sosso ho bevuto Alla salute Chi va piano, va sano E non è pepe Perché io vado veloce E questo è già il secondo? Cioè, l'ha quasi finito Uno Due Potete duviter di me? No Però del tuo stomaco sì È quella la cosa che mi pregherà Mi deve sbrigare Perché io devo assolutamente tornare a casa Ricordatevi Che secondo me È stata sleale, Graziana Quindi scrivetemi nei commenti Perché non è giusto prendere il latte Abbiamo detto che era una cosa estrema Sì, ma estrema Ma non è che devo morire Sei tu che non l'hai ordinato senza lattosio Ora dai la colpa a me Allora Ah, sei pieno Questo l'ho conservato giusto per fare la clip Ragazzi Questa è la faccia di un uomo Che è già pieno Della giornata Questa è la faccia Qui ha tutto finito Il campione Qua c'è solo la schioma Però ora la finisco Pure? Noi non lasciamo niente Ma veloce Io devo andare a casa Opla Bravissimo Donna a parte o dal lato Deve uscire questo latte No, grazie Deve andare a casa Perfetto A dopo ragazzi Allora raga Graziana è andata a prendere da mangiare al panificio Però non voleva che io andassi con lei Quindi ora vedremo che cosa prenderà insieme Io ho paura Perché sinceramente oggi sta veramente strozzetta Già sono stato male oggi pomeriggio Spero non abbia preso niente con lattosio Perché secondo me a sto punto lo fa apposta per farmi perdere Eccola Ho fatto la spesa Vadoo Grazia Ma è gigante Dobbiamo pranzare Bro ma tu stai fuori Scusatemi ma io ho fame Quindi ho detto mangiamo Mettiti più qua che stai contro la luce Non è vero che perché sono contro la luce Perché vuoi stare vicino a me Non è vero Ma che cos'è sta cosa? Bro tu sei pazza Ti ho preso una cosa che ti piace tanto Che a me piace un po' meno Ma a te piace tanto No Graziana ma tu sei pazza Frittarelli Arancini Ma facci su uno Sei a te e due a me Questo è quello Sì È leggero dai Ma tu sei tutte le parolacce che mi venivano in mente E non sai cosa ho pensato per stasera Se ci arrivo vivo stasera Eccoci qui Ma com'è Oh tu Graziana ma sei pazza Come faccio a mangiarmi tutto questo? Allora questi sono miei Ma sei fuori E questo è tuo Ma tu stai male Uno due Sei pezzi Ma stai male? No Buon appetito Appena sfornata No è buona però Vabbè che sei già pieno Come ti può fare? Ah lo devi mangiare La vedo dura la sfida di oggi Non lo so se ce la faccio Ha esagerato E siamo ancora a pranzo Qui c'è un appi Di posti Ma tu sei una pezza Oh non ti dite Ma scusami Mi devo vendicare del video che mi hai fatto tu Ma almeno dammi un bonus Bonus? Questo non è un bonus Questo non è un bonus Perché? È il raggio di Giuda Un uomo distrutto dalla vita Qua sarei almeno in un'altra mezz'ora abbondante Cos'è? Sei pieno? Che dici? Io mangio tutto Io da qui Io di lì E poi non riesci a mangiare nemmeno quattro piccolissimi arancini Stai deludendo tutti i trollini Ragazzi come finirò tutto questo? Vi farò vedere la mia pancia Sei vergognoso Sì mi stiamo Vuoi un po' anche il dolce lì sopra? Eh già c'è anche il dolce Madonna Dobbiamo avere una pausa Una pausa abbondante Un uomo distrutto dalla life Ah bravo Hai mangiato tutto Bravissimo Secondo me È tipo un'ora che siamo qua Dai Ma stai in un luogo pubblico Ma non hai finita qui Signore fietà ti prego Non vuoi essere così stossa grazia Ma c'è sempre un po' di spazio per il dolce Dai questo non è il vero tinto Dai ti prego Ma non ce la faccio Wow Sono mini Senti Bra ma come vi faccio a mangiarlo nei tre? Ma ragazzi c'è veramente Questo piccoletto qui Non c'è manco nessuno che glieli regalo Questo è il cioccolato bianco Lo mangi tu? No non mi piace cioccolato Guarda già la faccio io Le ho le otto le scadre Vabbè Pistacchio Cioccolato è vuoto Mangia questa? Vai Ma questo è nel latte Ah cacchio è vero Forse sì Ma devo tornare a casino Devo c***o per forza Cioè in buono Ma tu comunque sei La regia Ma ragazzi per favore Ragazzi vi prego Non l'ho fatto apposta Ragazzi vi prego Lasciate il like Perché grazie si deve fare Il video con il costume d'alino Per favore Gnammi Buono Eppure buono Eppure buono Poi non si va No ti prego No se non sto male Madonna Scogliatolo me in azione Vuoi anche il mio? Io ti farò soffrire la prossima challenge Non è vero Tu mi ami tanto No Tu soffrirai Tu mi chiederai di lasciarti Per quanto ti farò soffrire No no Ragazzi lasciate il like Grazie di aver soffreso Sto soffrendo Ci sto morendo qui Non riesco Perché sono plum cake Mi pluncano la bocca Ma perché ti sei messo in piedi? Con questa base sotto No però questo non ce la faccio Dobbiamo aspettare un po' Andiamoci con la macchina Me la mangio strada facile Non ce la faccio Ok va bene Io torno a casa Eh Faccio ciò che devo fare Eh E poi ci fanno di nuovo Dai Non ce la faccio Non posso fare Menti di tre o quattro dici volte Non prendi la persona Non prendi l'attoso Grandissima Grande Sgonski Buono che devo andare a casa Benissimo Brutto 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 Siamo nato al supermercato Perché io devo comprare lo spuntino Ma guardate Giuseppe Porca miseria Mio Dio Capatua Sono gonfio per il latte Ditemi È normale Sulla cosa Io Non posso ancora andare a casa Perché poiché andrò a casa Diventrò la metà Qua tutto ciò che mi devo svuotare Giornati dal supermercato Peppe Ovviamente in bagno E quindi Spuntino Non ho pensato a ciò che volevo Proprio Ho comprato un'altra cosa Ghiaccioli Beh Hai finito Peppe Si è affogato nel water Eccolo qui Il campione Che c'è Ah è diminuita Ti ho preso questi Perché io ti volevo far mangiare il gelato Bello Ne devi mangiare tre Porre cinque Perché porre cinque Non piaccio Raga Comunque solo acqua e ghiaccioli Quindi Molto 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 Brava Vabbè ragazzi Così vi faccio direttamente vedere Quanto tempo ci metto Perché Non ci vorrà nulla Primo Ghiacciolo Siamo al secondo Ghiacciolo Comunque Forse è stata troppo buona Quindi stasera devo essere più cattiva Non lo lasci Oh che lasci Oh ma si chiama sfida estrema Scusami Questo è storto Come la mia vita E comunque Gli ho mangiati tutti e tre Anche ora qualcuno Pensi che vi ho schiamati Ovviamente Sai dove siamo No Io vedo io Ma non sai cosa ho preso Perché ho pagato tramite l'app E quindi Non lo sai Te la farò pagare cara 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 Non è così Perché Era Extreme Per cui Ci sta Nel prossimo video Indosserò un cappello rosso Perché vuol dire che mi chiede aiuto Ciao abbiamo due codici L'abbiamo ordinato con l'applicazione Tu sei pazza Bro Bro Quanti c***o mi hai presi Bro Quattro panini con il menù Bro Ma che problemi c'hai Extreme le mie p***e Impossibile Un po' calaca Impossibile Allora tu mi devi dire Sei una persona normale nella vita Sì perché avevo fame Sì perché avevo fame Allora devi dire grazie che ti ho anche fatto Tu hai palesimamente detto Vabbè oggi gliela faccio per la challenge Perché non è possibile Non è umano Eh vabbè Tu hai detto io mangio Sì vabbè Vado con tutto ciò che hai fatto Mi riempito di latte Ho preso per me un menù Per te quindi tre menù large Ti mangerai un Big Mac Un crispy E un altro Big Mac Con patate nei grandi Coca Cola grande Vi rendete conto che è una cosa impossibile Non è fattibile sta cosa Io provo finché posso Ma non si può Potrei anche farlo Il problema è che andrò Poche chiacchiere E più cibo Ma vogliamo ci Non mangiamo meccolo una vita Io devo c***o di nuovo Di brutto Io non andrò più qua Veramente hamburger Fanno schifo E poi verrà lo stesso Come sempre Cioè secondo me Li preparano ieri Ma io sono piena E ho mangiato un po' oggi Salvatemi da questo incubo Il crispy l'ha finito Un Big Mac l'ho finito Ma ho perso Cioè sto mangiando ma ho perso Io mi ritiro dalla gara Perché le patatine non le ha toccate La Coca Cola forse ha bevuto un pochino So quando sono arrivata al limite Adesso mi devi mille euro Hai detto che c'era una penitenza Che mi devi dare mille euro No E questa credo che sia Una equa penitenza Ragazzi scegliete la penitenza nei commenti Però considerate che Graziana ha fatto a sporca Sì ma io nemmeno Neanche Thomas Hengri Riusciva a mangiarsi tutto questo Sì ma sta continuando a mangiare Questa è veramente tanto cattiva Il pepe si arrende alla vita ragazzi Più cimile lei sarà vestita da aliena Per un video in video No che è lì Questa cosa non la Grazie a tutti Grazie a tutti